leggiamo le trame della nuova settimana della promessa la sopopera di produzione spagnola in onda su canale 5 con gli episodi inediti domenica 18 agosto dalle 15 30 da lunedì 19 a venerdì 23 agosto dalle 15.00 sabato 24 agosto dalle 15 30 la promessa le anticipazioni dal 18 al 24 agosto 2024 catalina sfuggeò l'aggressione di gimena grazie all'arrivo tempestivo di martina quest'ultima e curro non riescono a trattenere i loro sentimenti reciproci malgrado la partenza imminente del giovane mentre catalina e pelaio accolgono con stupore il signor cavendish cruz informa petra e feliciano che sono sotto indagine per la morte del padre simona spera in una lettera da valenten per il figlio antonino e candela la consola l'incontro con cavendish inizia bene ma viene turbato da un esplosione di gimena in assenza dei marchesi causando imbarazzo tra i presenti curro decide di non partire per l'inghilterra e lo comunica martina la quale lo esorta a non sprecare l'opportunità valenten corteggia maria con un mazzo di fiori catalina riferisce ai marchesi dell'accoglienza di gimena a cavendish preoccupandoli la degustazione di marmellate per cavendish va bene ma catalina avverte gimena delle possibili conseguenze delle sue esplosioni di rabbia salvador ringrazia maria per il sostegno durante la sua convalescenza maria cerca di chiarire a valenten che tra loro ci sarà solo amicizia ma lui non si rassegna curro comunica alla famiglia la sua intenzione di non partire più scatenando l'ira di lorenzo e cruz mentre alonso lo sostiene e gli offre un lavoro come assistente romulo sta guarendo grazie alle cure di abel e jana durante una partita a carte gimena ha un'altra crisi attaccando curro catalina e martina i eronimo approfitta della situazione per manipolare gimena contro catalina insinuando che la famiglia voglia farla internare gimena in preda alla rabbia minaccia la famiglia davanti a cavendish il sergente funes annuncia a petra e feliciano che l'indagine sulla morte del padre è stata chiusa maria infuriata con valenten per averle rubato un bacio lo respinge ancora una volta gimena tiene catalina in ostaggio nella sua stanza curro cerca di fare pace con lorenzo ma viene respinto abel tenta di parlare con jana ma lei lo evita gimena cercando combustibile nell'hangar si nasconde all'arrivo di pelaio e ironimo manuel torna alla tenuta venendo rimproverato dai marchesi per la sua assenza senza preavviso petra sollevata per la chiusura dell'indagine cerca di riconciliarsi con feliciano ma lui rifiuta ogni contatto valenten e simona scrivono al figlio di simona chiedendogli di farle visita jana scopre un incendio nella stanza di gimena e con don romulo riesce a salvare lei e catalina quest'ultima austioni e problemi respiratori ma riesce a indicare gimena come colpevole dell'incendio mentre romulo già debilitato rischia complicazioni abel propone una terapia innovativa per catalina ma cruz trama per ritardare la consegna dell'ossigeno necessario cavendish è sul punto di interrompere i rapporti con pelaio e ironimo ma il conte lo convince a rimanere lorenzo intende far arruolare curro nell'esercito gimena afferma di non ricordare nulla dell'incendio i duchi dello sinfante arrivano alla promessa convinti che gimena abbia avuto un esaurimento nervoso mercedes non crede che gimena sia responsabile dell'incendio mentre cruz insiste che lei abbia perso la ragione margarita e josé decidono che dovrebbe essere allontanata dalla tenuta petra confessa a feliciano il motivo per cui è stata costretta a farlo passare per il figlio dei suoi genitori causando la sua rabbia per essere stato ingannato catalina è in bilico tra la vita e la morte in attesa dell'ossigeno ma mauro e pelaio in moto per recuperarlo affrontano un contrattempo valenten continua a corteggiare maria e curro informa lorenzo della sua decisione di non arruolarsi gimena abbandona la promessa mentre lope torna feliciano è sconvolto dalle rivelazioni e teresa cerca di consolarlo mauro riesce a riparare la moto emmanuel scopre tracce di benzina in un tessuto nella stanza di catalina catalina risponde bene alla terapia con gioia di tutti eccetto cruz il marchese accusa la moglie di trascurare la salute della figlia feliciano fa capire a salvador che il triangolo amoroso con maria e lope non può continuare iana sospetta che ci sia qualcosa di strano tra curro e alonso e teme per la sua relazione con manuel teresa sprona feliciano a non farsi abbattere dal passato